Buongiorno, questa settimana Diamo i risultati del concorso per il romanzo romantico contemporaneo È un concorso che ha visto una buona partecipazione Sono arrivati tanti manoscritti Sono stata un po' delusa dal fatto che molti ricalcavano un po' il modello Harmony Ecco, la mia idea del romantico contemporaneo non era esattamente quella del romanzo rosa di consumo Che si trova in edicola Con tutto il rispetto per questo tipo di prodotto Perché io amo sempre tutto quello che fa leggere le persone Quindi ben venga anche il romanzetto dal finale abbastanza scontato Scritto correttamente Che fa passare qualche ora di relax piacevolmente O ci accompagna magari in un viaggio, in treno, in autobus Così dove abbiamo bisogno magari di una lettura poco impegnativa La mia idea era comunque quella di romanzi che esplorassero un po' le varie sfaccettature del sentimento Nel terzo millennio Allora, certamente i sentimenti sono uno degli aspetti proprio fondanti della condizione umana E nei manoscritti che ho letto Ho trovato praticamente tutte le sfaccettature dell'amore Ho trovato naturalmente l'amore per un partner Ho trovato l'amore per i figli L'amore tra persone appartenenti a generazioni diverse E la voglia di amare delle quarantenni Perché era soprattutto riferito alle donne Siano esse single o donne sposate Che comunque hanno bisogno di una ventata di novità Ci sono anche varie tematiche che ricorrono nei romanzi che abbiamo letto Qualche sono per esempio anche cose non sempre piacevoli Come la malattia Oppure la lontananza E in moltissimi c'è comunque un ingrediente estremamente interessante Che sono i mezzi di comunicazione Quindi oggi si comunica con mail, sms, telefonini Insomma io ricordo bene che invece quando ero giovane io E vivevo in Belgio Aspettavo con ansia a volte per giorni Le lettere del mio fidanzato che era qua Poi insomma questo non vuol dire che Un rapporto vada a finire male per la lontananza Insomma tant'è che sono ancora sposata con la stessa persona Ma comunque questo è un discorso diverso La lontananza comunque incide molto E a volte la possibilità di avere dei mezzi di comunicazione Più efficienti ed efficaci Certamente aiuta o addirittura può condizionare un sentimento Ho detto che ho trovato molti manoscritti buoni, scritti bene Alcuni però nonostante la buona scrittura Non mi trasmettevano alcuna emozione Quindi sono andata a cercare Tra tutto quello che ci è arrivato Quello che più mi ha emozionata Quello che più ha parlato Diciamo alla mia sensibilità di donna E questo che proporrò ai lettori Allora adesso la graduatoria finale Che non è stata facile da stilare Con qualche motivazione Allora sono segnalati tre romanzi Ovviamente a pari merito Li dico così in ordine alfabetico per autore Valerio Selicano Ami dagli occhi color del mare In questo interessante romanzo Si intrecciano due storie d'amore Una nel passato e una nel presente Le analogie non mancano Ma la storia contemporanea Offre agli innamorati degli strumenti di comunicazione Un tempo impensabili Che possono davvero contribuire a fare la differenza Altro segnalato Daniela Vasarri, Maeva Matilde, di 37 anni Ha una buona professione Un matrimonio finito alle spalle Ma un grande desiderio di maternità Perché l'amore di cui si ha bisogno Sovente Non è soltanto quello per un compagno Ma anche quello per un figlio Così Matilde adotta Maeva Una piccola orfana Scampata al terribile tsunami Che ha colpito la Thailandia La piccola porterà l'amore Nella vita di Matilde E ha anche una svolta inaspettata Altro segnalato Marianna Vitale La verità che c'era l'inganno Perla e Gemma sono due gemelli identiche D'aspetto ma non di carattere Perla è più libera e volitiva Gemma più riflessiva, altruista, amante della solitudine Così non sa rifiutarsi di fronte alla richiesta di Perla Di prendere il suo posto Riuscendo a ingannare tutti O quasi Romanzo piacevole Lettura molto scorrevole E adesso veniamo alle classificazioni Si classifica al terzo posto il romanzo Fuori Tempo di Maria dell'anno Tina Rossetti 25 anni commessa in una libreria ma anche dottoranda in legge Si innamora del professor McAllister Un americano che è ospite dell'Università di Torino per una serie di seminari Nonostante le differenze d'età, circa 30 anni Tra i due nasce un amore Romanzo ben scritto Che esplora il tema dell'innamoramento e dell'amore Tra persone appartenenti a generazioni diverse Ma al tempo stesso Del riporto tra destino e volontarietà nelle scelte La conclusione è solo apparentemente scontata E in grado di sorprendere e coinvolgere il lettore Secondo classificato Claudio M Il sogno della farfalla Sardegna, fine settembre Tempo di vacanza solitaria per uno scrittore quarantenne Non famoso ma emergente Un giorno, dopo essersi appisolato su una spiaggetta isolata L'uomo vede una ragazza arrivare dal mare Stremata dopo una lunga immuotata È l'inizio di una storia d'amore che dura pochi giorni Come la vita della farfalla di cui la ragazza porta il nome Una farfalla che però ha un segreto Romanzo ben costruito e ben scritto Con una chiara impronta maschile Che nulla concede al sentimentalismo Si classifica al primo posto Il fiordaliso spinoso di Marina Azzori Petronilla Quarantenne single nato in Sardegna Ma residente in Liguria Decide di trascorrere una decina di giorni di vacanza Nella sua terra d'origine Sarà un modo per partire la ricerca di se stessa Con lo spirito di una ragazzina Che si addentra in una fiaba Il principe azzurro c'è Anche se forse è un azzurro un po' appannato La fata madrina delle fiabe C'è pure lei Però rappresentata da uno zio affezionato E c'è pure una centenaria e bizzarra tartaruga Di nome Zippo Una scrittura poetica e leggera Coinvolgente per i lettori Chiamati a entrare loro stessi nella storia Perché la ricerca di se stessi Della propria identità E di un amore sincero che riscaldi la vita È un bisogno per tutti Quindi complimenti a I classificati, segnalati I vincitori I tre vincitori ovviamente Complimenti in particolare a Marina Azzori Perché il suo romanzo è quello che ha risultato più originale Sia come trama sia come scrittura Bene Questi romanzi io mi auguro che Possano presto far parte del catalogo di edizioni suorienti E a tutti voi do appuntamento alla prossima settimana Con un nuovo video di scrittura e lettura creativa Alla prossima Alla prossima